Sì, attenzione, subito il Tottenham pericoloso con Dorart Medio, ma miracolo di... Di Alec, il tiro e il gol, attenzione, il gol di Giulio Bellini, attenzione, va Samuelettini, il tiro e il gol, gollasso di Samuelettini che la incastra proprio lì. Samuelettini, ancora Samuelettini cerca il numero, interviene Bellini, attenzione, Alec, attenzione, il gol, rete, 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 di Alec. Leonardo Caldoro, attenzione, Bellini, allarga per Bicorni e la mette in mezzo, e lo fa, rete, 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 cerca Alexia Mainterini, Dorart Medio che allarga per Samuelettini, il tiro e il gol, rete, rete, rete di Samuelettini. Attenzione, interviene Fradini, Neri, Dorart Medio, prova il tiro, chiuso, ma si ritrova il pallone, fradini, il tiro e il gol, gollasso di... Attenzione da Silva, cerca Samuelettini, interviene Portarena, Bellini, il numero di Bellini qui su Neri, attenzione, Bellini, la mette in mezzo, e le gol, rete, 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 prende il match. Attenzione, il tiro di Bicornia, il tiro e il gol, gollasso di Alexia. Grazie a tutti.